Da dove viene la parola magia, ve lo dico, un'etimologia controversissima che ha un sapore orientale, occidentale, fatta di tanti viaggi. Io vi riporto questa qua, perché mi piace, perché ha a che fare con l'indoeuropeo. Magia viene dal greco magheia, ed è molto interessante vedere come questa parola e i suoi derivati si conservano perfettamente in sanscrito latino e greco. In greco abbiamo magikos, che vuol dire magico, magicus in latino, e maiu in sanscrito che vuol dire stregoneria. Ancora magus in greco, magus in latino, maiu in sanscrito mago, magheia in greco, magica arse in latino, l'arte magica, maia in sanscrito. Maia è l'illusione. A questo punto la radice indoeuropea di origine è verosimilmente maia, che indica il corso della realtà misurabile, ciò che è illusorio, ciò che è ingannevole. Maia è qualcosa che copre quello che è vero. Ricordiamo nell'Ottocento il velo di maia di Schopenhauer. Schopenhauer si era appassionato ai veda, dove c'era maia, che era questa divinità dell'illusione. Non è arrivato un frammento di eraclito, o eraclito, che dice che la natura ama nascondersi. Il tema del velo lo troviamo anche nel velo di Iside. E poi insomma, contemporaneo, stiamo parlando di Matrix. Esiste una realtà che noi non vediamo perché è coperta da un velo, perché c'è un'illusione. E questa illusione è la magia, che viene presa e raccontata dal mago, rendendo tutto magico. Il mago accontezza che siamo circondati da un'illusione. Per questo la rende magica e quindi crea la magia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa interpretazione, se vi ci trovate oppure no.